Ora parliamo della grammatura, mare piuttosto mosso, non abbiamo nel mirino le spigole ma i saraghi che fino adesso non sono arrivati, le salpe e i cefali, quindi una grammatura raccolta nella parte finale del terminale subito prima del microgancio è la soluzione migliore. In questo caso ho posizionato una piccola torpille con un allestimento di piombini sia sopra che sotto, ci sono circa 4 piombini sopra la torpille e altrettanti 6 piombini sotto la torpille, sono montati su uno 018 che è appunto il filo che ho in bovina e in particolare il Silion Mine Line di Trabuco che è un fluoro coated e che fa benissimo per questo tipo di pesca. La lenza si continua con un microgancino per un facile aggancio del terminale, si continua il terminale con il terminale vero e proprio cioè con una forcella questa volta di fili piuttosto sostenuti.